Siamo qui con il coro di San Cleto che partecipa alla seconda edizione di Cantate Inni con Arte con il brano edito Panis Angelicus. Perché proprio questo brano? La scelta è stata dettata principalmente dalle richieste del concorso, quindi un canto eucaristico. La scelta di questo brano per quanto ci riguarda è stata molto legata ad un nostro percorso. È stato uno dei primi brani in polifonia quando abbiamo cercato di ampliare un pochino il nostro repertorio anche senza musica perché la difficoltà delle piccole parrocchie è proprio quella di avere dei musicisti che sono sempre presenti e quindi con questo brano abbiamo comunque trovato una nuova armonia di voci che comunque ci dava la stessa gioia e del cantare anche altri brani con l'aiuto della musica in sottofondo. In questo in particolare emerge appunto la gioia e l'armonia delle nostre voci nello stare insieme e nel cantare insieme. Lei ha detto che il suo coro è caratterizzato da un grande impegno, una grande costanza ma anche una grande gioia e un grande entusiasmo. Sì, nasciamo dalla volontaria unione dei genitori del carichismo della nostra parrocchia ci siamo resi conto che accompagnare i ragazzi con dei canti appropriati per le celebrazioni importanti per le comunioni, le cresime e anche per tutte le domeniche ci dava grande stimolo e cercava di avvicinare anche loro comunque alla frequentazione. In tutto questo abbiamo riscontrato uno stare insieme sano con dei genitori che condividevano lo stesso percorso e in questo modo abbiamo dato alla liturgia dominicale un nuovo stimolo cercando di proporre anche dei brani un pochino più vicini a quello che è la musica nella liturgia intesa come tale, quindi togliendo quelli che sono i brani più canzonetta e riportare un pochino la musica sacra ad un livello un pochino più elevato. Nel Panis Angelicus abbiamo appunto riscontrato questo significato profondo che viene ripreso da Casciolini, che è l'autore, dall'inno di San Tommaso d'Aquino creato appunto per il Corpus Domini e in questo brano appunto c'è un grosso significato del pane del cielo, il pane Dio che si è fatto uomo ed è diventato pane per gli uomini, per tutti gli uomini, per il servo, per l'umile, per la persona più importante quindi ha tolto tutto quello che sono i veli che dividono gli strati sociali ed è diventato comunque un messaggio per tutti ed è quello appunto che noi vogliamo poi riportare nelle nostre celebrazioni.